Mi dica tutto, cosa vuole sapere di me? Sono alto 1,69, mi piace mangiare, tutte quelle cose, tutte queste trasmissioni sulla cucina non ne posso più, credo come moltissimi altri. Leo Gullotta, ospite del Social Wolfing Festival che è giunto alla quinta edizione. Io credo, se non vado errato dalla seconda edizione che ho ricevuto inviti, non potevo venire per motivi di lavoro, quest'anno non c'è due senza tre, eccomi qua, gioioso, premi, carriere e quant'altro, incontri di fronte a questo scenario meraviglioso, incontri con dei giovani fantastici, curiosi, vogliosi, sanno ascoltare, sicuramente vogliono crescere e per crescere bisogna sapere, domandare e questo hanno fatto. Io ho prodotto un documentario, un altro documentario era stato già proiettato qua ed è un modo, dice il produttore, è un modo invece per dare una mano a dei giovani, oggi è difficile che i giovani ricevano una mano tesa e allora qualcuno lo deve fare, ovviamente incontrando, parlando e vedendo la qualità, la preparazione di qualche giovane per ben quattro volte ho prodotto il loro lavoro, le loro idee e devo dire addirittura uno di questi a firma di Verdesca che è stato fatto qua ha vinto il nastro d'argento come documentario per il cinema. Quindi sono contento di poter fare questo, i miei 70 anni, i miei 54-55 di carriera evidentemente sono la costruzione di quello che ho visto, imparato, che tante persone meravigliose, note, meno note mi hanno dato, mi hanno fatto crescere. Sono stato un ragazzino fortunato, sono un uomo del sud, nato, cresciuto in un quartiere popolare, per fortuna papà mi ha mandato assieme ai cinque fratelli a scuola. Evidentemente l'imprinting iniziale dei genitori, la scuola anche se di un quartiere popolare, poi fa la differenza. Poi ho avuto la fortuna, la casualità, fin da ragazzino, di cominciare con meravigliosi punti di riferimento, professionalmente parlando, Ferro, Randone, Sciascia, Fava, Enriquez e quant'altro. E ho sempre incontrato, è anche vero che la mia voglia è sempre quello che prima del lavoro mi piace l'incontro umano, laddove vado a lavorare. E tutti i miei lavori, tantissimi, teatro, cinema, televisione, sono stati sempre fatti alla base di incontro umano. Poi parlare del progetto, alcuni progetti sono stati progetti straordinari, progetti da Oscar, ma anche quelli non da Oscar, perché il mio è un lavoro che tu devi crederci da interprete, devi andare a cercare un'anima che non sta scritta e nessun copione e saperla dare per poi vederla in questo schermo enorme. Questo mi hanno insegnato, con questo sono cresciuto, mi hanno anche insegnato di dividere e naturalmente ho scelto, ho accettato questa chiave di vita, non bisogna mai mettere insieme il lavoro e la vita, la vita è vita e il lavoro è il lavoro. E forse questa distinzione mi fa vivere serenamente, tranquillamente, gioiosamente, da cittadino incazzato, soprattutto di questi tempi, perché bisogna esserlo. Infatti il documentario fuori concorso, prodotto da me, per la regia di Fabio Grossi, presentato qua, non è una fiction, è proprio un documento ed è una denuncia vera, autentica, verso la mancanza totale di lavoro nei reparti della cultura in Italia, nessuno gli dà retta, nessuno gli dà conto, è tutta una casualità. E quindi la mia denuncia è proprio nel prodotto, oltre che a voce, qua con amici, ovunque io vado, anche in un documentario, perché il progetto di Fabio Grossi lo trovavo estremamente interessante, così come interessante ho trovato altri. Allora, guardi, in questo caso penso che ogni attore è come una mamma, dove ci sono i lavori di grande successo, di grandi premi, Davide Donatello, i nastri d'argento, i Globe e tant'altro, ma non si può fare questa divisione, perché ogni cosa che si fa, cinema, teatro, televisione, è un viaggio dell'anima, da interprete, e quindi ogni viaggio ha una sua valenza, ha un suo valore, non si può dire preferisco questo, preferisco quello, non bisogna confondere gli one show man dalla interpretazione di un personaggio. A volte non tutte le ciambelle riescono col buco, ma in 54 anni qualcuno col buco è mancato, voglio più bene a questi lavori che sono stati un po' sfortunati, così come nella vita bisogna stare sempre vicino a chi è meno fortunato di noi.